Ciao a tutti, non perde chi ama, perde chi non sa ricevere l'amore. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tarmasco. Allora dobbiamo tenere presente questo fatto fondamentale che ci sono persone che si pentono di aver amato sia perché magari la relazione non è andata come volevano, non è andata nel modo giusto, sia perché magari si sentono sofferenti, si sentono a pezzi. Allora in questo caso dobbiamo tenere presente un qualcosa di fondamentale. Intanto che bisogna vivere questo amore che abbiamo dato non come energie sprecate ma come lezioni imparate. Noi possiamo imparare dall'aver dato amore senza ricevere. In realtà abbiamo ricevuto, abbiamo ricevuto un insegnamento prezioso. L'insegnamento prezioso qual è? Che dobbiamo bene capire quali sono le persone da tenere nella nostra vita e quali sono le persone da lasciare. Anche perché esiste un fenomeno fondamentale che si chiama sincronizzazione o entanglement. Quando noi entriamo, quando noi diamo qualcosa a una persona, comunque entriamo in un contatto profondo con questa persona, i nostri cervelli spiegano anche le neuroscienze e si sincronizzano. Per cui avviene un trasferimento, avviene un trasferimento di emozioni. E quindi noi rischiamo di prenderci delle emozioni negative e comunque riusciamo a salvarci solamente se diamo emozioni positive, se la nostra positività riesce a sovrastare la negatività che magari riceviamo in cambio perché non riceviamo il dovuto amore. Ma quindi, al di là di tutto questo, qual è il messaggio importante? Il messaggio importante è che noi possiamo imparare una lezione, una lezione molto importante, ma non dobbiamo mai pentirci di aver amato, perché non è che abbiamo perso. L'importante è non perseverare. Perde invece chi non sa apprezzare e ricevere l'amore. Questa è una persona che perde veramente, perché le persone che non sanno apprezzare l'amore che viene dato, le persone che non sanno aprirsi, le persone che restano bloccate proprio dal punto di vista del chakra del cuore, che è il chakra che ci permette di connetterci all'amore. Quindi ricevono amore ma non lo sanno ricevere, quindi è amore sprecato. Sono come persone, è come un serbatoio, un recipiente, che è fatto in tre modi particolari. Le persone che non sanno ricevere amore hanno il recipiente, quindi il chakra del cuore, che può essere o un recipiente forato, nel senso che l'amore entra e loro lo sprecano, e loro lo sprecano. Oppure può essere un recipiente girato al contrario. L'amore non entra neanche, rimbalza fuori e loro non lo ricevono. E quindi entrano in stato di sofferenza, perché vivere l'amore è veramente fondamentale per gli esseri umani. Oppure, un'altra cosa che può essere, hanno il recipiente, l'amore arriva ma è un recipiente sporco, è un recipiente inquinato, inquinato da veleni mentali, inquinato da rabbie, inquinato da rancore, inquinato da risentimenti, inquinato da attaccamenti, e allora non sanno vivere l'amore, perché lo trasformano l'amore che ricevono, ad esempio, in gelosia. Trasformano l'amore che ricevono in possessività. E quindi fanno una grande confusione, quindi ricevere amore come energia dell'amore. Se viene trasformata, le persone che sono possessive, le persone che sono gelose, controllanti, le persone che sono egoiste, significa che non ti amano, non ti danno amore, ma ti danno possesso, quindi il possesso cosa va a fare? Il possesso va a alimentare praticamente il loro ego, perché è il desiderio di possedere qualcuno, possedere nel senso di trattenere. Ci sono anche persone che magari vogliono trattenerti a tutti i costi, condizionarti a tutti i costi. Ecco, queste persone qua non ti amano, quindi hanno un recipiente dove l'energia entra, ma viene, diciamo, bloccata. Quindi, una persona che non riceve amore da te, devi tenere presente che è lei, è questa persona che soffrirà. E la cosa peggiore però che si può fare come risposta a questo è chiudersi in se stessi. Quando qualcuno chiamiamo, ci delude o ci abbandona, siamo costretti a fare un forte lavoro di ristrutturazione emotiva su noi stessi. Dobbiamo affrontare i sentimenti che stiamo vivendo, le emozioni che stiamo vivendo, anche a livello cognitivo e a livello emotivo. E dobbiamo ristrutturare il tutto, non, come dire, affondando nella frustrazione, nel veleno mentale della rabbia, nel veleno mentale della paura di essere abbandonati, ma renderci conto fondamentalmente che noi abbiamo questa capacità di dare amore, che l'altra persona non è stata in grado di riceverlo e quindi saranno problemi suoi. Noi non possiamo, possiamo portare l'asina alla fonte, possiamo fargli vedere come si beve, ma non possiamo bere al suo posto, non possiamo assolutamente bere al suo posto. Quindi noi non abbiamo nulla da ricriminarci. Dobbiamo semplicemente direzionare questa energia che abbiamo dell'amore su altri bersagli, su altri bersagli, su altre situazioni, su altre persone che invece hanno un recipiente che è girato per il verso giusto, non ha fori e non è neanche inquinato da veleni mentali. Ecco allora che in quel caso, soltanto in quel caso, noi svilupperemo qualcosa di importante, svilupperemo un, diciamo, un amore reciproco. E l'amore reciproco è fondamentale quando l'energia scorre, quando l'energia fluisce. Questa è la condizione veramente migliore per poter vivere l'amore. Ricordandoci sempre che non abbiamo perso nella relazione precedente perché il nostro amore non è stato accettato, tra virgolette, ma semmai ha perso chi non è stato in grado di accettare l'amore. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al canale. Ciao!